Ciao Barbara, mi trovo a Roma all'esterno degli studi di Cinecittà, è qui che tra poco partirà questa nuova edizione del Grande Fratello, la numero 16, un'edizione rivolta ai NIP, i cosiddetti personaggi non famosi. Ma la domanda sorge spontanea, vedremo un meccanico, un fruttivendolo, un benzinaio? Ci saranno ragazze brutte? E soprattutto vedremo persone normali che nella vita reale guadagnano 1000 euro al mese? Questo lo scopriremo tra poco, intanto mentre nel resto del mondo ci sono persone che si incatenano per aver perso il lavoro oppure per protestare a guerre o contro il terrorismo, ce ne sono altre che si incatenano perché non sono state scelte come concorrenti di questa nuova edizione. Ma andiamo a scoprire chi sono e soprattutto quali sono le loro motivazioni. Barbara, mi trovo a uno degli ingressi di Cinecittà e in lontananza c'è una persona che si è incatenata perché non è stata scelta come nuovo concorrente. Ma andiamo a conoscere, andiamo a vedere chi è e quali sono le sue motivazioni. Venite con me. Ciao, com'è mai questa scelta? Questa scelta perché dopo dieci anni di casting di Provini, come io e come tantissimi altri ragazzi, per noi è sempre stata soltanto una perdita di tempo perché come ben sapete anche quest'anno anziché essere un grande fratello normale, dovrebbe essere un grande fratello con persone comuni, anche quest'anno un grande fratello VIP con tutte le persone già nate allo spettacolo e del mondo della televisione. Tu e Labria, hai già fatto altri provini? Sono dieci anni che faccio provini e casting e adesso sono basta di essere preso in giro e voglio dire basta tutto questo. Soprattutto vorrei chiedere a Barbara dove sono queste persone comuni che nel grande fratello mancano e dove è questo grande fratello normale, visto che è un grande fratello VIP, non un grande fratello comune. Cosa c'è scritto? Cosa c'è scritto nel cartello? Dopo dieci anni di provini e di casting sono qui fuori, io voglio fare il mio grande fratello fuori da qui, visto che lì dentro non mi vogliono, non mi danno questa possibilità e l'opportunità, non mi ascoltano, non vengo ascoltato e voglio fare il mio provino e il mio grande fratello fuori da qui e fare questa protesta incatenandomi qui fuori ai studi di Cinecittà in Roma in nome di tutti coloro che sono sentiti presi in giro come me, in nome di tutti coloro che come me hanno fatto casting e provini per anni per poi non essere stati mai presi. Però una domanda può sorgere anche spontanea, ma in questi dieci anni invece di fare provini, ma trovarti un altro lavoro no? Assolutamente sì, nel frattempo ho lavorato, lavoro tuttora, ma nonostante io ho un lavoro e tutto quanto, nonostante io mi lotto anche per i diritti, per la comunità LGBT, per la violenza contro le donne e il bullismo, io nonostante tutto sono qui a protestare, sempre in nome dei ragazzi, ma soprattutto sono qui per protestare perché siamo stanchi di essere presi in giro, da quello che è la redazione, la produzione, da quello che è tutto il giro che c'è intorno a questo reality. Continuerai a fare provini o questo è... Sì, non mollo, e questa sera resterò qui e resterò, credo, per molto, resterò anche tutta questa notte. Va bene, Barbara, per il momento qui da Cinecittà è tutto, a te la linea.